è buono lì? vuoi fare un discorso prima di così? raga pacchettoni ci ha lasciato qua l'elicottero ci ha lasciato un dente qua? no ci ha lasciato tutto non ha venuto più moto ha venduto la moto dopo questa? ci ha lasciato tutto il dente davanti no no va fuori c'è un mazzo di cazzo che non è santa volta